Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Avanti Password Giusta? No Oh questa è giusta Lo sfondo di Jody No, c'ho una vecchia Che sfondo hai? Lo fai vedere? Ho il solito Ho il lomino Vediamo Ho lomino Vediamo non i live Andiamo a farlo vedere a me È davvero quello? Ahahahah Cura mio zio Vabbè easy Succederà Cioè è impossibile Oh mi raccomando il moderatore ciò solo sub un attimo eh Se sbatti eh Ok Carlo Ma dai dai te lo faccio vedere È vero Assurdo questa diva Che cosa? Cioè l'ho visto tutti è deficiente Non è assurdo no, non è vero Ma come l'ho visto tutti sono deficiente Ma non è vero È lo mio di coso? Ma Ma sei un deficiente Ma sei visto si vero? Cuore rosso Simo ti amo cuore rosso Gioji ti amo cuore rosso Cuore rosso nel dubbio Viva il cazzo e viva la figa Cuore rosso Vabbè Ma odore ti giuro prima Non l'ho pagato eh Non l'ho pagato eh Non mi paga per... Ah no ma è una cosa che per me fa di scato Ma io se non gli puzzano i piedi? Cioè... No, 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 no Attenzione, attenzione Non deve puzzare Non deve morire mentre lo annusi Però deve sapere un po' di piede secondo me Un minimo di piede Invece questo ha proprio di sapone Cioè sta di super pulito E a me non piace tanto Un vestamento C'è proprio... No, no Oddio No, no, non sto facendo niente No, no Stavo annusando E proprio... No, no, no No, 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 no Non addentiamolo perché qua No, no Sa di sapone Guardate ragazzi cosa succedeva questo in che anno? Nel mille? Novecento e avanti Non so, voi non eravate neanche nati alcuni sicuramente Nemmeno io te l'ho nato E anche tu Io sì Noi sì Non so che video sia eh La musica eh Guarda, guarda Ah certo, certo Ma si pestano tutti? Questo adesso non so che video sia però Vedrai che adesso formeranno una piramide pian pianino Ma zio ma da dove arriva la corrente? Sì Ma no, no Ma zio non parla Che sei scemo che c'è... Ma con la troia Ma sei scemo che c'è dentro lo spillo? Eh no, è venuto per l'Aikos Aiutami a tirarlo su un po' Mettilo via Quel piede, quel piede Che scarica terra Via No 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 zio no 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 Tieno sui piedi Prendilo, prendilo Prendilo Prendilo, eh non so L'elettricità fa male Prendilo per favore Ma lo prendo Non è l'ultima volta che mi sono tagliato i peli del fuoco Oh no 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 Ehm Devi dirmelo a te Io non lo so Ma, cazzo capisci Ma pensa alla domanda che hai fatto ma sembra ma sto fatta da fare ho una domanda con chi io sto attento di rispondere a me porca miseria sei diventato tutto rossa mamma mia ma prego non puoi lasciarci così mamma mia che disatto non puoi affermare che non esiste capisci? si ma devi tu dimostrarmi che esiste altrimenti vale ho capito smirzo però dimmi il teorema di averlo finito dimostra che non esiste un'equazione e non esistono soluzioni algebriche per le equazioni che sono superiori al quarto grado dimostra la non esistenza di qualcosa si può dimostrare che non esiste un numero razionale vuole a radice di due si può dimostrare che esiste un numero no ma non esiste i soldi queste sono le emozioni ha una domanda sul tuo lavoro ha una domanda sul tuo lavoro voglio solo salutarti ha una domanda sul tuo lavoro non vuole provarci è fidanzato anche lui si mette così no 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 cavolo eh cavolo eh cavolo riesce a farsi gli autofellazzi ma che cazzo scrivete lo dice anch'io farlo ma hai suonato la stiera vedi ok che numero è eh madonna sei di essere un dissociato no ma cambia il suolo cambia il suono si capisce scusate allora facciamo così no zio cancello il messaggio che c'è scritto il mio numero parco è davvero quello scusami zio vabbè easy succederà no raga non è ci voglio dire ma ragazzi chi è chi è ah 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 è carino questo che non c'è no su skype ci avevo trovato l'alzato su skype che avevo scritto a un medico di quando mi bruciava il cazzo che gli faccio ehm leggiamo leggiamo vabbè aspetta dai per favore eccoci buongiorno scusa baby ah la chiamerò baby ah ma va bene il mixtape ma te l'ho appena cantata ma te l'ho appena cantata eh ma non ci ho pensato non ci ho pensato è vero marcanica di seria è proprio sfuggito eh vabbè e faresti un film con ultimo? sì tanto 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 con ornella vanoni mi sono fatto prendere al momento scusa veramente grave grazie siamo pazzariano grazie entra alla porta grazie un tizio freebooter ciao mamma mia no 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 devo cancellare il VOD porca vacca cyber chiamo cyber porca vacca questo lo faccio fare giusto giusto vabbè ci sta ci sta come come punto di vista anche Rubino è uno che comunque non non beve non beve non mangia patate alti hc Rubino l'ho visto ho snicciato ho snicciato vabbè non fare quel dito lì ma anche voi lo vedete il dito? sì sì lo vediamo tutti lo vediamo tutti io non vedete i commenti mi sarebbe piaciuto vedere oh io che c'è da male a scuola su tiktok scusa ma a parte i sordi io fa pure col pinguino però vabbè che chat lo saluto comunque vabbè in chat lo saluto con me se è proprio full vabbè ci sta ah c'è pure contro il pinguino incredibile a controduzione che cazzo ma lasciatemi in pagina comunque dicevamo il concetto è la verità poi chiudiamo eh perché basta ciao lui dovrà cambiare outfit lui dovrà cambiare outfit a tutti in generale ok oddio oddio pronto che amore parca vacca parca miseria aspetta vabbè un secondo devo far velocissimo minchia aspetta che per la finestra cresce un po' d'aria no ma l'aria è conduttrice cosciuta conduttrice come si conduttrice come la credici come la credici ho visto la clip di Antonio Nacredici si anch'io che dice ah grande si 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 e Valentina bella che inculata sono privata non parlo mai per situazione sentimentale ehi ehi Jody devi stare un po' zitto dillo dillo che non sei no non posso dirlo ehi ho sbagliato tutto ehi pronto sono brutto vado avanti si sono brutto un prosciutto va avanti col beatbox si no non dico no e non faccio nulla per fare dire faccio queste barre ma non voglio baciare un pienire cavallo del cazzo ehi ehi mi piace il taglio di gioia ma qual è il taglio di capelli sabato mattina sabato mattina cristo dio bravo grazie sabato mattina è andato a parrucchiere veramente è uno schiaffolo alla carizia sì uff uff uff